Ben ritrovati insieme a un nuovo appuntamento con l'informazione dedicata all'Abruzzo. In apertura torniamo a parlare dell'assalto al portavalori in A14 perché continuano le indagini per rintracciare la banda che nella mattinata di venerdì tra Pineto e Pescara ha assaltato il blindato in servizio per il trasporto valori. Il mezzo aveva all'interno una cifra di poco inferiore ai 500 mila euro. Secondo una prima ricostruzione i malviventi per bloccarlo hanno posizionato chiodi e veicoli di traverso sulla carreggiata poi hanno aperto il fuoco nel tentativo di far scendere i due operatori a bordo. Non riuscendo nel loro intento utilizzando una mola hanno creato un varco nello sportello e con un tubo hanno riempito l'abitacolo di una sostanza chimica. Gli operatori hanno resistito il più possibile ma poi sono stati costretti a scendere guadagnando comunque 5 dei minuti preziosi che hanno consentito l'arrivo delle forze dell'ordine. I due poi nel corso di una colluttazione con i rapinatori hanno riportato delle escoriazioni e sono stati trasportati in ospedale. I malviventi si sono dati alla fuga e come dicevamo sono ancora in corso le ricerche. La squadra volante della polizia di Pescara ha invece denunciato un uomo fermato in strada a Rancitelli. La pattuglia durante un controllo del territorio ha fermato un 44enne che si spostava in bici. Subito l'uomo ha mostrato un immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli agenti a procedere a una perquisizione personale trovandolo in possesso di un coltello di lungo 19 centimetri, nonché documenti per i quali non ha saputo fornire motivazione come Bancomat intestate ad altre persone. Dunque è stato denunciato per il reato di ricettazione, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre tutto ciò che è stato rinvenuto è stato sequestrato. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Teramo ha sottoposto a sequestro oltre 10.000 cosmetici contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute, che erano all'interno di varie attività commerciali della provincia. Nello specifico i finanzieri hanno rinvenuto oltre 10.000 confezioni, tra cui deodoranti, bagnoschiuma, shampoo, profumi vari, salvette umidificate che contenevano questo composto chimico usato come fragranza sintetica nei reparti cosmetici. Una sostanza più comunemente conosciuta come Lilial, vietata con regolamento comunitario dal marzo 2022, perché rientra tra le sostanze cancerogene e tossiche, essendo dannosa per la fertilità. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria sei cinesi, titolari o rappresentanti legali delle imprese commerciali interessate. A Teramo è effettuata per la prima volta in Italia, in un ospedale pubblico, una crioablazione endoscopica per cancellare le lesioni precancerose dell'esofago. Questa procedura innovativa permette di eliminare durante una normale gastroscopia le aree di displasia. fino a un adulto su cinque, tra la popolazione generale affetto da esofago di Barrett, condizione caratterizzata proprio dalla trasformazione del normale rivestimento dell'esofago. Questo fenomeno si verifica in genere come conseguenza di un danno cronico, come quello indotto dalla malattia da reflusso gastroesofageo. Dunque, questo primato va all'ospedale Mazzini di Teramo. Si occuperà invece del controllo delle emissioni in atmosfera delle sei grandi aziende ubicate sul territorio, nella maggiore zona industriale d'Abruzzo, rispondendo anche all'esigenza di incremento del personale da destinare all'attività di salvaguardia e tutela dell'ambiente. Parliamo della sede operativa dell'Arta, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, nel distretto subprovinciale di San Salvo, in provincia di Chieti, i cui locali sono stati inaugurati alla presenza del presidente della regione, Marco Marsilio. Per l'area industriale tra Vasto e San Salvo, l'Arta effettua circa 60 rapporti mensili di monitoraggio continuo. In più c'è anche la motonave Ermione che controlla invece le acque del mare. Ora passiamo allo sport. L'amichevole tra Salernitana, squadra di Serie A e il Picerno in Serie C, prevista per il prossimo 24 luglio a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila. è stata anticipata domenica 23 luglio, sempre a Rivisondoli, con calcio d'inizio alle ore 17. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società Lucana. E novità invece anche per l'associazione sportiva Città di Teramo, lo storico capitano Speranza diventa infatti nuovo team manager dei Biancorossi. Ce ne parla Giusy Cingoli. Ieri la SSD Città di Teramo, con una lunga nota, è stata lieta di poter ufficializzare la felice prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con Ivan Speranza nel ruolo di club manager. Dopo 265 presenze, 11 reti siglate e 9 stagioni indimenticabili, l'appassionante storia d'amore infinita tra il capitano di lungo corso e il diavolo prosegue con una nuova esmozionante esperienza. Prossimo al compimento dei 38 anni, in maglia biancorossa, può vantare da calciatore diversi successi, un campionato di Serie D, un campionato di seconda divisione, un campionato di Lega Pro e un campionato di promozione, rifiutando nel corso delle stagioni occasioni irrinunciabili, ma che hanno finito per legare il suo nome alla città di Teramo. Quei colori e quella fascia che ha sempre indossato, con orgoglio, professionalità e straordinario senso di appartenenza. E allora, buon viaggio capitano, augurandoti una seconda carriera ricca di successi, come merita la tua persona, e in biancorosso ovviamente. Sul fronte stadio Bonolis prosegue la trattativa tra la società e il gestore Franco Iachini per tornare a giocare al Bonolis, come auspicato dall'intera città. Nelle ultime ore c'è stato anche l'intervento del comune di Teramo con il sindaco Gian Guido D'Alberto, prospettando costi più bassi per il club e invocando l'applicazione dell'articolo 36 della convenzione e questa cosa è stata comunicata anche al gestore Franco Iachini, che molto probabilmente dovrà cedere. Ed è davvero tutto con il nostro Tiggi Abruzzo. Grazie per averci seguito, arrivederci.